guardate amici quante detestive si è portato dell'altra casa dove ce ne stiamo andando guardate madonna guardate chi aveva nella casa non faceva niente ma non faceva niente ma non faceva niente e guarda stai binghieno tecno certo ah ci ha poi di tutti i tipi a spray a come capita rasce rasce è la meglio macca certo niente 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 amici come si vede che non faceva niente da niente ahahahahah